Domenica è la giornata dei migranti e quindi tutte le nostre chiese pregheranno e si faranno vicini sia alle famiglie migranti sia ai rifugiati politici che sono tra noi. Lei ha incontrato i ragazzi che sono al plazzo in questo momento? Li ho incontrati con un mio collaboratore e domenica verranno qui ad animare la messa, poi i giovani di Casa Betania hanno organizzato un pranzo per loro, sia per i cristiani sia per gli altri di altre religioni. Le parrocchie del territorio che cosa stanno facendo per integrare questi profughi? Qui a Fano siamo all'inizio di questo lavoro ma nel resto della diocesi, soprattutto a Fossombrone, ad Acquaviva e in altre parti ci sono state molte iniziative positive di integrazione e di accoglienza. Ci saranno anche altri incontri molto importanti tra i quali? Inizia proprio domenica la settimana di preghiera dell'unità dei cristiani, questo da più di cent'anni è il più grande appuntamento per tutti i cristiani della terra e allora ogni chiesa cerca di vivere una settimana davvero speciale. Martedì, e invito tutta la cittadinanza, le 20.45, nella bella sala del centro pastorale, sarà con noi Giovanni Traettino. Chi è Giovanni Traettino? È un pastore evangelico pentecostale di Caserta, amico personale di Papa Francesco e Papa Francesco ha dedicato una sera proprio per andarlo a trovare, per invitare tutti i cristiani a creare legami, gemellaggi spirituali con i cristiani delle altre chiese. Lui, il pastore Traettino, sarà con noi e quindi io invito tutti, anche per l'affetto che abbiamo per Papa Francesco. Grazie. Grazie. Grazie.